Amici di Cusano Italia TV, benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia, vi anticipo subito come sempre un'altra puntata, anche questa particolarmente ricca di temi da approfondire. E allora con la regia di Samuel Maiolatesi ed Emanuele Forcina andiamo a vedere, a scoprire quelli che sono i titoli di questa puntata, a cominciare dal primo titolo, lo vedete, il mostro di Firenze e gli eretici. Poi spiegheremo bene perché, ma approfondiremo quelle che sono le novità legate a questa lunga storia, a questo lungo giallo italiano iniziato nel 1968, poi l'ultima volta che il mostro ha colpito era il 1985. Vediamo anche l'altro titolo della puntata odierna e torna l'appuntamento con la nuova grande stagione di Crimini nei Cieli, la stagione nera dei dirottamenti aerei. Oggi parleremo di Dawson Field. Cos'è Dawson Field? Poi ve lo spiegheremo, ma vi anticipo una storia incredibile. Quattro aerei dirottati contemporaneamente, un po' come avvenne l'11 settembre 2001. Andiamo a ricordare poi gli altri titoli con la regia e qui, grande spazio all'attualità per il ciclo Italia in giallo e nero, parleremo dell'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa, 29 anni, incinta di 7 mesi. Il giallo è il delitto di Senago, per il quale è stato arrestato Alessandro Impagnatiello. E poi gli sviluppi anche del caso Reggeni e, come sempre, torna all'appuntamento con l'osservatorio sui crimini di guerra in Ucraina. A proposito della guerra Russia-Ucraina ci collegheremo con la corrispondente da Kiev, Irina Gulei. Andiamo anche a presentare gli ospiti che abbiamo in studio, a cominciare da un amico di Crimini e Criminologia e questa sera quasi una doppia conduzione quando c'è lui, che ritrovo con grande piacere il documentarista, scrittore, consulente di parte. A proposito, dimostro di Firenze, Paolo Cocchi, buonasera e bentornato. Buonasera a te Fabio e a tutti i telespettatori. Ti prenderai questo compito di doppia conduzione, soprattutto quando avremo poi anche il collegamento da remoto con l'altro ospite che poi presenteremo. Intanto in studio, a proposito di avvocati che stanno lavorando al caso, l'avvocato Alessio Tramfa. Buonasera e l'esordio praticamente a Crimini e Criminologia. Buonasera a tutti e a tutti gli spettatori. Sostituto processuale per quanto riguarda la storia relativa al mostro di Firenze e quelli che sono gli ultimi sviluppi. Tra poco avremo in collegamento anche l'avvocato, lo abbiamo già in collegamento che è legale dei parenti, alcuni parenti delle vittime del mostro di Firenze. Anche lui lo ritrovo con piacere. Buonasera avvocato Antonio Mazzeo. Salve, buonasera. E allora dopo aver presentato gli ospiti, per chiaro una storia molto conosciuta, però magari non tutti conoscono bene gli otto duplici omicidi commessi dal mostro di Firenze che ha sempre utilizzato una stessa arma, quella famosa Beretta 765. Andiamo allora a riassumere il tutto con il servizio di Aurora Vena, montaggio di Daniele Loda. Vediamo. E' la notte del 21 agosto 1968, quando il mostro di Firenze colpisce per la prima volta, uccidendo gli amanti Antonio Lobbianco e Barbara Locci. Otto colpi da distanza ravvicinata, quattro colpiscono la donna e quattro l'uomo. Sei anni dopo, il 14 settembre 1974, Pasquale Gentilcore viene raggiunto da cinque colpi esplosi da una Berretta calibro .22 Long Rifle, e Stefania Pettini uccisa con tre coltellate profonde allo sterno. Dopo altri sette anni, nello stesso anno, vengono commessi due duplici omicidi. Il primo, nella notte fra il 6 e il 7 giugno 1981. Le vittime, Giovanni Foggi e la sua ragazza, Carmela Denuccio. A soli quattro mesi di distanza, altri due giovani morti, Stefano Baldi e Susanna Cambi. Le cartucce ritrovate appartengono alla stessa Berretta calibro .22. La notte del 19 giugno 1982, vengono uccisi Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini. Il 9 settembre 1983, due ragazzi tedeschi, Hort Wielmeier e Jens Hoover-Asch, vengono raggiunti e uccisi da sette proiettili. Le vittime del penultimo delitto del mostro di Firenze sono Claudio Stefanacci e Pia Gilda Rontini. E il 29 luglio 1984, l'omicida spara attraverso il vetro della portiera colpendo il ragazzo quattro volte e due volte la ragazza che aveva tentato la fuga. Le vittime dell'ultimo duplice omicidio sono due giovani francesi, Michel Cravescily e Nadine Moriot, e la notte tra il 7 e l'8 settembre del 1985. Ma torniamo al giugno dell'81. Nei pressi di Mosciano di Scandicci, Giovanni Foggi e la sua ragazza, Carmela Denuccio, si conoscevano da pochi mesi ma avevano già programmato di sposarsi. La sera del delitto c'erano a casa dei genitori di lei, poi verso le 22 escono per una passeggiata e si appartano con l'auto. Giovanni viene raggiunto da tre colpi di pistola esplosi attraverso il finestrino anteriore sinistro, mentre altri cinque proiettili colpiscono Carmela. In fase di sopralluogo verranno però rinvenuti solo cinque bossoli su otto. La ragazza viene tirata fuori dalla macchina e trascinata in fondo al terrapieno rialzato su cui corre la stradina, dove leveranno recisi i jeans e ha sportato interamente il pube. L'omicida, presumibilmente prima di lasciare il luogo del delitto, colpisce con il coltello il corpo esanime del ragazzo. Come nei precedenti omicidi, la firma è sempre la stessa, la beretta calibro 22. Questa è la storia degli otto duplici omicidi commessi dal mostro di Firenze e poi nel corso degli anni. Secondo ancora oggi l'immaginario collettivo per tutti il vero mostro di Firenze è Pietro Pacciani, i compagni di merende. In realtà le cose non stanno così, non c'è ancora una verità vera per quanto riguarda questa incredibile storia. E qui spieghiamo il perché del titolo che possiamo rivedere, il mostro di Firenze e gli eretici, poi ci spiega adesso bene Paolo Cocchi, perché gli eretici, ricordo che potete naturalmente partecipare come sempre anche voi da casa, inviando sms o messaggi whatsapp e domande ai nostri ospiti al 334-92-29505. A quel numero che vedete in sovraimpressione, potete inviare un sms oppure attraverso whatsapp potete scriverci per l'avvocato Alessio Trampa, l'avvocato Antonio Mazzeo o Paolo Cocchi, da cui parto proprio per chiedere perché gli eretici, così ricordiamo anche quelle che sono le novità che si vedono anche protagonista, come consulente di parte. Sì, allora premetto che, e questo credo lo sappiano tutti, che tre duplici omicidi, quindi sei ragazzi non hanno alcun giudicato e quindi è un semi-call case, per quanto riguarda gli altri quattro duplici omicidi ci sono delle sentenze passate in giudicato che non ci convincono affatto, come non convincono tantissime persone che seguono il caso e anche criminologi, anche persone che qualificate, che hanno seguito questo caso negli anni in questo lungo periodo di 50 anni ormai. Eh sì, 1968, più di 50 anni. Quindi le ultime c'eravamo lasciate appunto con un fatto che dimostrava da due perizie dei RIS e da un'altra perizia di Pari De Minervini che è consulente tecnico-balistico di parte, ma del PM, quindi dell'accusa, che dichiarano che il proiettile ritrovato nella maxiperquisizione nell'orto del Pacciani nel lontano 1994, in circostanze molto particolari, molto strane e già dall'epoca si era discusso molto su questo, ebbene non è stato mai incamerato in una camera, in una beretta calibro 22, quindi non può essere un indizio o una prova a carico di Pietro Pacciani e questo che cosa sta a significare? Ovviamente che Pacciani non è detto che non è la prova che non è il mostro, ma era la prova regina che viene a mancare, quindi rimane quasi niente su Pacciani a livello probatorio e anche indiziario, oserei dire. Gli eretici perché appunto ci sono tante, tante, tante cose che a noi non quadrano. Perché comunque è quello che dicevo proprio in apertura, che poi adesso nell'immaginario collettivo è sempre Pacciani il vero mostro di Firenze e i compagni di Merede. Sì, purtroppo questo è il gran lavoro che ha fatto la stampa in questi ultimi 20-30 anni, parleremo poi anche di questo. Di circuire un po' il pubblico dando per certo qualcosa che non è assolutamente certo, anzi probabilmente sono, erano quasi tu, sicuramente Vanni e Lotti erano assolutamente strane alla vicenda, però io vederei mie opinioni perché voglio rimanere anche perché sei consulente di parte, peraltro ricordiamo le immagini che avete viste e che ora continuerete a vedere, sono tratte proprio dai documentari di Paolo Cocchi per la serie Doc Crime, peraltro questa sul mostro di Firenze è di otto puntate, sono otto documentari, uno ogni duplice omicidio. Allora ne ho fatti due, la zona oscura è in otto puntate, quindi per ogni omicidio è in otto puntate, mentre i delitti del mostro di Firenze era un documentario di un'ora e mezza su Sky che racchiudeva un po' tutta la storia, anche quella processuale. Così come altri casi, no? Che poi è trattato, via Roma, Meredith, ne abbiamo parlato. E poi possiamo anche vedere, per ricordare il libro, poi vado dall'Avvocato Maceo, un libro scritto da Paolo Cocchi a proposito della storia del mostro di Firenze, ecco qui, al di là di ogni ragionevole dubbio. Poi sentiremo Alessio Tramfa che è in studio, però prima, visto che Alessio Tramfa è sostituto processuale, sentiamo il titolare a proposito di colui che è legale di alcune vittime, nel senso alcuni parenti delle vittime del mostro di Firenze. Avvocato si ricorderà, ne abbiamo parlato, abbiamo realizzato tante puntate, l'ultima proprio a ottobre. Un lungo percorso che parte da lontano per ottenere l'accesso agli atti. Poi finalmente questo accesso agli atti vi viene concesso, ma possiamo dire non totalmente così, no? Non c'è proprio la disponibilità del materiale che voi richiedete. Qual è la situazione al momento? La prego però di non fumare, altrimenti ci oscurano. Sa che non possiamo. Ma io sono a casa mia, posso fare. Lei sì, però è in televisione, ma altrimenti ci fanno storie. Quindi magari approfitti di qualche... ecco, magari quando alle 9.27 daremo la linea alla regia. Sì, d'accordo. La parola eretico mi lascia per palestra. Non si ritiene un eretico lei in questo? No, eretico fa presumere che ci sia una Chiesa, che ci sia una verità rivelata, rispetto alla quale qualcuno non è d'accordo. Anche Lutero era un eretico, però poi siamo pieni di liderani. No? Allora, comunque lei mi faceva una domanda. Forse è quello di far riferimento alla Procura, alla Chiesa e alla Procura, alla Stampa, questa è la Chiesa. E' il loro... E' il tema proprio di sì. E' questo, no? Allora, dunque, dopo una lunga battaglia che non sto qui a replicare, perché... Ecco, io ho due decreti di autorizzazione. Ce l'ho sotto gli occhi, guardi. Dunque, noi chiedevamo la prima perizia del genetista dottor Ricci, genetista della Procura, e l'8 novembre scorso, la sostituta dottoressa Beatrice Giunti, la Procura di Firenze, e ci autorizza, dice, autorizza l'estrazione di copia della consulenza tecnica in materia genetica del dottor Ricci, eseguita nell'ambito del procedimento penale numero, eccetera, e ce l'ha dato. Poi c'era un elenco di dieci documenti redatti da... redato dal mio... del mio ausiliario da pochi, il quale, sempre l'8 novembre scorso, la solita sostituta, mi dice, visto, riservando ogni determinazione all'esito dell'eventuale reperimento, quindi eventuale reperimento, di alcuni degli atti di chiesti, intanto autorizza medio tempo, resta nel frattempo, l'estrazione di copia degli atti, che sono due atti che ci hanno autorizzato, ma, ripeto, la richiesta riguardava dieci atti. Naturalmente, siccome anche da colloqui con la Segreteria della Procura, dice, guardi, questi atti che voi chiedete sono atti di indagine non confluiti nei fascicoli dei dibattimenti pacciani e compagni di merende, dateci un po' di tempo per cercarli e poi deriviamo, perché sostanzialmente c'è l'autorizzazione. Dall'8 novembre quanto tempo è passato? Sette mesi. Quasi sei mesi, sette mesi. Sette mesi, ecco, l'8 giugno sarà silenzio totale, il famoso muro di gomma. Naturalmente è un silenzio all'interno del quale noi ci siamo mossi, sia io che il collega Traffa, abbiamo richiesto, io qui, tutta la documentazione, PEC di varia natura, in cui si dice, ma a che punto siete con queste ricerche? Diteci qualcosa, vorremmo un appuntamento col sostituto, quando può? Silenzio, silenzio totale. Quindi il muro di gomma. Quindi continua questa sorta di ostruzionismo che prima era ancora più accentuato, no? No, però tutte le battaglie precedenti, dal punto di vista strettamente giuridico, io potrei dire che il mio lavoro ha avuto un esito positivo, perché quando io arrivo a farmele autorizzare, lasciamo perdere le polemiche precedenti, hanno sempre detto di no, alla fine mi dicono di sì. Sì, ma se mi dicono di sì e poi non mi danno le carte, è come dire di no. E certo, soprattutto quelle che chiede, no? Quello... E certamente, perché guardi che sia chiara una cosa, noi non è che ci muoviamo come quella, come dire, congerie di mostrologi che negli ultimi 50 anni ciascuno di loro si dichiarava portatore di una verità, c'è una bibliografia sterminata sul mostro, noi ci muoviamo sulla base di indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, in questo caso i Carabinieri, di Borgo San Lorenzo, che parte da un rapporto inviato in procura nell'ottobre del 1984, molto corposo e con molti allegati, in cui si individuano delle situazioni e dei soggetti sospetti. Per una serie di ragioni, sarebbe troppo lungo qui, però lo dicono i Carabinieri, non lo diciamo noi. E quando poi siamo andati a vedere questi sospetti indicati dai Carabinieri, se erano nell'elenco dei sospetti nel registro della SAM, non c'erano. Ecco, non c'erano. Quindi questi sono rami secchi, ora uno dice, ma può darsi che la procura, come dire, non vi prende molto in considerazione perché voi state perseguendo, diciamo, degli obiettivi fantasiosi. Ma voglio dire, se fossero così fantasiosi, perché mai da tre anni siamo stati costretti a far fare addirittura delle interrogazioni parlamentari per avere le carte? Sì, infatti, ricordo. E questa è una prima osservazione. Quindi, anche dando per scontato che siano fantasiosi, a maggior ragione perché non ce le fanno vedere, visto che ci hanno autorizzato. Ma infatti... Tra l'altro, io concludo su questa prima vicenda con un'osservazione che non è semplicemente giuridica, perché dal punto di vista giuridico io le autorizzazioni ce l'ho. E vorrei dire che è escatologica, cioè riguarda i destini finati. Allora, questa vicenda risale a oltre 50 anni fa. Siamo già alla terza generazione. La prima generazione era quella per la procura di Vigna, Flerica, Nessa. E quanto agli avvocati, Filastoma, Razzita, Bevacqua. La seconda generazione, io sono a cavallo tra la prima e la seconda. È fatta comunque di attuali, se è inutile fare nomi, di attuali sostituti, attuali procuratori e attuali avvocati. Questo muro di gomma è tremendo perché sono tre anni di lavoro sostanzialmente senza aver avuto la possibilità di verificare attraverso quelle carte se le indagini dei Carabinieri portavano, potrebbero portare insieme a una serie di indizi che non vi dico e che abbiamo raccolto nell'ambito delle mie indagini difensive, a circoscrivere con molta puntualità a questo punto. Perché dico escatologica? Perché vedete, signori, io mi auguro che qualcuno mi ascolti degli interessati. È vero che la vicenda risale 55 anni fa, però è di una strettissima attualità, non passa anno, vorrei dire non passa stagione che i media a livello nazionale non facciano servizi, controservizi, programmi, eccetera. C'è un'attenzione mediatica molto forte che, come in tutti i casi in cui vedasi per esempio la vicenda a Orlandi, come in tutti i casi in cui non si arriva a una verità, come dire, che è pacificante, nonostante qui ci siano alcune sentenze, l'attenzione rimane viva e vispa e questa attenzione rimarrà viva e vispa anche sulla terza generazione, sulla quarta generazione. Noi passeremo, passeranno i procuratori, passeranno gli avvocati, ma prima o poi queste carte verranno fuori. Allora io pongo una questione. Ammettiamo che da queste carte venga fuori. La possiamo sentire dopo questa questione, perché altrimenti non riusciamo a far parlare. Se la tenga per dopo questa osservazione, così riusciamo a sentire anche gli altri. Volevo solo puntualizzare, poi a proposito delle immagini che avete visto, c'è un bambino, ricordiamo nel 68 il primo duplice omicidio del mostro di Firenze, nell'auto, il mostro non se ne accorge, c'era il figlio della vittima donna di quel primo duplice omicidio e dormiva nei sedili posteriori, sui sedili posteriori dell'auto, per spiegare l'immagine a chi non conosce tutta la storia del mostro di Firenze. Avvocato Alessio Tranfa, tre anni, ha detto l'avvocato Mazzeo, lei da poco è entrato in questa storia. Che idea si è fatto di tutto questo, a proposito di queste richieste che comunque sono comunque negate, no? Prima negato l'accesso agli altri, poi accesso sì, però quello che chiedete non mi viene dato. Sì, dunque, io è da circa ottobre-novembre che sono entrato. Ma quindi da poco, proprio da quelle date che ricordava sette mesi fa. Sì, un po' prima, perché poi dopo l'autorizzazione dell'8 novembre di cui parlava Antonio, mi sono regato personalmente a Firenze in procura il 17 novembre e lì ho potuto estrarre copia di sostanzialmente di solo due degli undici, non erano dieci, degli undici atti per i quali il pubblico ministero aveva concesso, tra virgolette, nel senso che l'autorizzazione la deve concedere e l'ha concesso il giudice, in particolare in questo caso il GIP, ma materialmente avendo la procura in mano i fascicoli è chiaro che dopo l'autorizzazione del GIP sono andato lì per averli materialmente. E solo due di questi atti, tutti gli altri e anche tutti gli interi altri due o tre fascicoli se non ricordo male, per i quali il GIP di Firenze ha dato l'autorizzazione, praticamente secondo quello che dice la procura di Firenze non sono stati ancora rinvenuti nel marasma di carte nel mare magnum dei vari procedimenti che si sono susseguiti in relazione al mostro di Firenze. E' vero che sicuramente siamo di fronte a una mole enorme di atti, però una procura della Repubblica non può non premurarsi, anche perché poi gli atti li chiedono i difensori delle persone offese, cioè che sono 54, 55 anni, molte delle quali che stanno aspettando quantomeno una giustizia formale, perché per tre degli otto duplici delitti sappiamo che non c'è un accertamento giurisdizionale di colpevolezza. Sono i due dell'81 e uno del 74, ricordiamo. Sì, esattamente. E quindi siamo di fronte a questa situazione paradossale, per cui come diceva Antonio abbiamo l'autorizzazione ad accedere, però materialmente, avendo la procura materialmente in mano le carte allo Stato, non ce le hanno ancora date. Quindi poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Io per esempio sono rimasto molto stupito del fatto che prima che arrivassi io a far parte di questo pool, addirittura il procuratore capo di Firenze, in relazione a una o più precedenti richieste che fece Antonio, addirittura nell'esprimere il proprio parere si oppose a che appunto Sì, infatti abbiamo seguito tappa dopo tappa. La persona offesa potesse accedere a questo. Quindi, francamente, non mi era mai capitato. È una cosa particolare. Non mi era mai capitato. Quindi, noi insistiamo comunque. Noi insisteremo fino alla fine per poter avere copia di questi atti che, dal nostro punto di vista, sono molto importanti. Poi vi mostriamo anche dei contributi, delle immagini, delle foto esclusive. Paolo, andiamo a chiudere questo blog. Sì, sintetizzando. Per far capire. Parliamo di un qualcosa che è da tre anni. Ci sono state due interrogazioni parlamentari. Ci sono state... Tutto sul canale YouTube di Cusano Italia TV e anche di Paolo Cochi, se volete vedere le puntate precedenti, ricordiamolo, per farvi un'idea di quello che è stato tutto questo percorso. Sì, dicevo, qui magari si può opinare, ma è un caso così grande, magari gli atti si perdono. Signori, qui abbiamo avuto un'indagine che è durata trent'anni. Lo disse anche il giudice Ogni Bene al processo che le indagini furono fatte in maniera dir sciagurata sulle scene del crimine e dir poco. I processi lasciamo perdere, perché prima c'è una condanna, poi una assoluzione, poi un annullamento, poi muore Pacciani, poi c'è i compagni di Merende che vengono prima condannati, poi il procuratore generale chiede l'assoluzione, la calunnia di Lotti. E tutti questi atti qua vengono così dispersi e non si trovano. E qui parliamo di un periodo di tre anni, di tre anni che noi stiamo chiedendo. Adesso l'avvocato è entrato da poco. Ma sono tre anni che stiamo chiedendo per una parente di una vittima che non ha avuto alcun risultato giuridico. Niente. La signora denuncio. La signora denuncio. E poi lo riprendiamo con le foto di cui parlavo, ma anche per parlare, tornando agli eretici, di chi, come ha detto l'avvocato Mazzello, può far parte di una chiesa che evidentemente vuole una sola verità. È una chiesa composta anche dal giornalismo italiano. C'è una verità costruita anche su dove si dava solo la voce all'accusa. Cioè, voglio dire, è stato qualcosa di... Riprendiamo tra poco. Linea alla regia. Torniamo tra pochi istanti. E ben ritrovati. Secondo capitolo di Crimini e Criminologia. Continuiamo a parlare del mostro di Firenze. In studio il documentarista e scrittore consulente di parte Paolo Cocchi, l'avvocato Alessio Tramfa, sostituto processuale dell'avvocato Antonio Mazzeo che invece è in collegamento da remoto. Tra poco recuperiamo anche l'avvocato Mazzeo. E allora, insieme a Paolo Cocchi, vediamo queste foto esclusive che ora vi mostriamo a proposito. La possiamo definire perché poi il termine che è stato usato anche da alcuni giornalisti, no? Proiettile o pallottola farlocca, Paolo. Di fondo è questo, no? Vediamo un po' di immagini del proiettile trovato nell'orto di Pacciani. Di fondo, come dicevo prima, sia il perito del PM, quindi dell'ex PM che ora è procuratore, Luca Turco, che i RIS hanno stabilito che non solo il perito si è spinto oltre, dice che è stata artefatta questa cartuccia. Quindi vedete che dentro le carte ci sono, se uno le apre e le legge, delle cose che prima non si sapevano. E questo è un esempio. Questi sono i documenti. Come potrebbero esserci delle sorprese negli altri 10 o 11 punti che io ho stilato. E che avete chiesto. E che abbiamo chiesto. Perché ci sono state, io ricordo, delle indagini difensive. Quindi non è che a caso nel mucchio io sono andato a chiedere delle cose così. Ci sono stati dei ragionamenti, delle indagini difensive. E qui i documenti hanno una loro importanza. Adesso non mi dilungo perché li abbiamo detti, insomma, più o meno. Però, se è come si pensa, possono uscire fuori delle situazioni che poi possono essere legate al mostro o non legate al mostro o comunque molto sconvenienti per qualcuno. Abbiamo anche la foto della perizia balistica e quel famoso rapporto dei RIS di cui parlavamo. Questi sono altri documenti che vi mostriamo in esclusiva. E vorrevo commentare questa notizia, questa cosa veramente assurda del proiettivo di artefatto. Sì, sono una perizia di anni fa. Parliamo di qualcosa... Tra virgolette occultate nel fascicolo. Ne parlamo a giallo d'estate, l'estate scorsa con l'avvocato Mazzeo. Però io ero in debito con lei, avvocato, perché stava facendo una conclusione. Quindi le faccio fare prima quella conclusione. Però non la sento. Grazie. Ma no, la conclusione è molto semplice. Usciamo un attimo dal contesto. Siamo perso la terza generazione. Gli avvocati, procuratori, eccetera. Sì. Bene, prima o poi, non con noi magari, queste carte usciranno. Lei provi a immaginare questo scenario, che da queste carte, va bene, si chiude il cerchio e l'idea dei carabinieri che noi abbiamo sviluppato risulta fondata. Bene. Sì. Allora, nel frattempo siamo morti tutti, eh. Sono morto io, sono morti tutti, sono morti i procuratori, tutti. Ci sarà un'altra generazione. Allora, io dico, chi oggi, chi oggi si sta accanendo a negare queste carte, vuole che di lui, perché si ricorderanno di lui, vuole che di lui si ricordi in senso negativo? Che si abbia un ricordo negativo? Perché queste carte prima o poi usciranno. E quindi, se usciranno, poi... Allora, ecco perché io parlavo, parlavo di una valutazione non soltanto giuridica, perché sul piano giuridico io ho ottenuto quello che volevo, sul piano formale, ma sul piano escatologico, dei destini finali, prima o poi quelle carte usciranno. Perché c'è qualcuno che ha voglia di lasciare di sé un ricordo negativo? Perché aveva sempre opposto rifiuti alla concessione. E quindi era una valutazione filosofica. Sì. Però questo... Detto questo, osservo, osservo, per quanto riguarda il proiettile, che l'unica volta, che noi abbiamo potuto avere l'accesso a un fascicolo, ma non grazie alla procura, grazie al GIP, perché l'ufficio del GIP di Firenze ha fatto un paio di ordinanze decisamente in contrasto con l'indirizzo della procura. Guarda un po' cosa è venuto fuori. È venuto fuori che il famoso proiettile dell'orto dei Pacciani era farloco. L'unica volta che abbiamo potuto vedere le carte. Poi, finisco, visto che avete introdotto il tema della Chiesa rispetto agli eretici e delle verità ufficiali, il 31 marzo del 2021 io fui avvicinato, su mia sollecitazione via mail, dalla segreteria del dottor, credo dottor Purgatori, che conduce Atlantide sulla 7, e eravamo nel pieno della battaglia per le carte che è rimasta inalterata, e quindi fu intervistato, mi fu fatto un'intervista, mi dissero che sarebbero andati tre o quattro minuti della mia intervista, va bene, naturalmente non venne fuori l'intervista. Il giorno dopo mi permisi, per pura curiosità, di scrivere alla signora Dorazzi, che è la segretaria di Purgatori, e gli dicevo questo, cara signora, non ho capito perché poi non avete dato la notizia, le assicuro che non sono contrariato, ma credo di avere almeno il diritto di capire, anche perché mi avete pure fatto firmare una liberatoria, può aiutarmi? La signora, gentilissima, mi ha risposto, avvocato mi dispiace moltissimo, e le mando le scuse anche da parte dei Purgatori, purtroppo ieri sera si sono accumulate ritardi sulla rete, e abbiamo dovuto tagliare i tempi, il suo contributo ne ha fatto le spese. Ecco, questo è. E' una trasmissione che ha mandato immagini di repertorio, quindi è bene sottolinearlo, ma non è l'unico caso. Infatti proprio di questo volevo parlare. Ci fu anche il documentario di Rai 2, che avvicinarono l'avvocato, appunto, un regista di quella trasmissione, una volta sentito un po' qual era il clima, niente, sono diciamo... Non hanno mandato in onda, non hanno fatto nulla. No, non hanno proprio fatto l'intervista, quanto o meno. Quindi si continua a produrre queste trasmissioni che riguardano sempre i Pacciani, i compagni di Merelli, che fanno cassetta, ascolti, non so quanto, soldi, speculazioni, e alla fine poi non dicono nulla, nulla, assolutamente, e non si occupano di cose che potenzialmente potrebbero essere, lavoro di giornalista, tu mi insegni, potrebbero essere interessanti per le vittime, per l'informazione in generale. E questo perché secondo te accade? C'è una stampa appiattita sulla procura? Assolutamente sì, ma non lo dico io, lo dicono da anni e anni e anni, la procura passa il materiale ai giornalisti e l'unica fonte da cui, quasi l'unica fonte da cui prendono il materiale della cronaca, in questo caso della giudiziaria, è chiaro che abbia un occhio di riguardo nei confronti delle procure, quando la procura non fa qualcosa che invece dovrebbe fare. Questo, scusate, avvocato, prego. Sì, no, visto che ci avete qualificati come eretici, storicamente lei sa che la Chiesa di eretici vi scomunica. È sempre d'accordo con Paolo però, perché... No, no, a me sta bene di essere chiamato eretici, però siamo stati scomunicati sia dai media, sia dalla procura soprattutto. Infatti, questo è vero, ecco perché siete eretici, siete stati scomunicati, dalla stampa, da un certo tipo di stampa, da noi mai, perché abbiamo realizzato veramente tante trasmissioni. La volta scorsa è emersa di una stampa fiorentina ostile, qui mi sembra di poter dire che... Si è esteso il discorso, perché comunque diciamo che... Vabbè, non diciamo. Non diciamo, non si può dire. Allora, sentiamo l'avvocato Tramfa, se avanzerete per caso, perché ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, anzi, peraltro ci fu pure una gaffe di un vecchio ministro della giustizia, prima... Del precedente, ministro. Del precedente, ce lo raccontò proprio l'avvocato Mazzeo. A proposito di quello, avanzerete un'ispezione, una richiesta di ispezione? Stiamo valutando appunto di fare una richiesta a questo punto, visto che le carte continuano a non essere date, una richiesta di ispezione ministeriale, perché credo che sia uno dei pochissimi strumenti a nostra disposizione. Posso dire una cosa sul proiettile? Io ritengo che paradossalmente, e su questo io credo che sia abbastanza illuminante quello che disse la sentenza di appello al processo Pacciani, in cui era presidente il dottor Ferri, sulle circostanze in cui fu rinvenuta. A distanza di tanti anni, come ha detto prima Paolo, è stato accertato appunto che quella cartuccia trovata nell'orto di Pacciani era, diciamo, artefatta. Quindi io credo che paradossalmente proprio il fatto che fu trovata quella cartuccia, che dopo così tanti anni si è scoperto, e lo hanno detto i RIS di Roma, mi pare, artefatta, io credo che paradossalmente sia la prova regina proprio dell'innocenza di Pacciani. Artefatta l'ha detto il perito. I RIS si sono limitati a dire che quella cartuccia non è mai stata incamerata in una pistola beretta. Esatto, sì, che i segni che aveva sul bossolo praticamente erano frutto di manipolazione. Quei segni distintivi. Evidentemente era stata messa da qualcuno nell'orto di Pacciani. Cosa che parte dalla lettera che io rinvenne anni fa, quella in cui un anonimo avvertiva gli avvocati ormai defunti, Bevacqua e Fioravanti, che sarebbe stato rinvenuto ben sei mesi prima della perquisizione, è un oggetto metallico invecchiato nell'orto del Pacciani. Poi, caso strano, c'è quel rinvenimento, il luccichio, ricordate tutto. In un giorno in cui pioveva sotto la tettoia di pomeriggio, poi in sostanza la cartuccia era un sasso. E' più emblematico questo della cartuccia, perché poi non è che dimostra che Pacciani non è il mostro, però non è più una prova a carico di Pacciani. Beh, poi è la procura che deve provare la colpevolezza e non è l'imputato che deve provare. Quindi, ad abbondanza. Però per dirti quanto è importante l'accesso alla documentazione, avere piena contezza di tutto quello che sia dal punto di vista legale e giuridico. Ebbene, ricordavi prima, no? Per poco che si è avuto, ecco cosa è uscito. Perdonami, spesso tanti mi chiamano, ma quali sono questi indizi? Qualcuno l'ho detto più o meno velatamente, queste indagini difensive. Ma come c'è la discrezionalità delle indagini da parte della procura, anche c'è quella della discrezione da parte di chi fa poi le indagini difensive. Quindi, però, io vi assicuro, ci sono degli elementi assolutamente interessanti e su questo vorrei che l'avvocato Mazzeo si pronunciasse. E allora sentiamolo, l'avvocato Mazzeo. Prima ricordavo quell'episodio del vecchio guardasigilli, vecchio perché è stata la precedente ministra della giustizia, Marta Cartabbia. Una gaffe vera e propria, no? A livello di diritto, ce lo raccontò lei. Però tutto questo poi si accumula e lascia pensare, no? Basta leggere l'articolo 116, basta leggerlo. Adesso non ricordo esattamente la questione… No, la questione era molto semplice. È molto semplice. L'articolo 116, a proposito della richiesta di copia di atti, dice che chiunque vi abbia interesse, può fare istanza e chiedere la copia. Ora, questo chiunque vi abbia interesse, a maggior ragione chiunque abbia un interesse qualificato, io assisto i parenti di due delle vittime del mostro, se non è un interesse qualificato il mio, ho avuto l'incarico di svolgere indagini difensive, no? Bene, io chiedo le carte e viene fuori. parte dalla procura, la quale dice, dice no, dice non te ne diamo, vabbè, fanno interrogazioni parlamentari, arriva il ministro che diventa più realista del re e dice guardi che non gliele danno per un motivo giuridico. Hanno ragione. Sì, perché solo il legale dell'indagato, dell'imputato o del condannato può chiedere la copia di legale. Allora, a questo punto, quando si arriva a stravolgere anche il codice, io che devo fare? E quindi ha maggior ragione reti. E non è così, perché qui abbiamo il pubblico non tutto d'avvocati, no? E quindi non è assolutamente... No, no, ma infatti per far capire che non è così, fu un errore gravissimo questo. Ma sì, ma se lo fa un ministro, questo le dice, beh, vabbè, no, le considerazioni tra galei, non è un quisco de popolo che lo sta dicendo al bar, lo sta dicendo il ministro della giustizia. Nero su bianco, attenzione. Sì, sì, no, ricordo benissimo la trasmissione, peraltro intervennero anche i parlamentari che appunto si erano mossi con quelle interrogazioni. Invece adesso con questo nuovo ministro si può ipotizzare una richiesta, un'istanza di ispezione, come diceva Tramfa. Non abbiamo altra strada, la stiamo già scrivendo. Ah, ecco, quindi lo farete. Perché no, per l'amor di Dio, le autorizzazioni formalmente ci sono. Eh, ma sono passati sette mesi, ragionevolmente non rispondono alle PEC, non rispondono alle richieste di appuntamento, non ci dicono a che punto sono con le ricerche. Muro di gomma. Muro di gomma che torna quindi ripetutamente dalla strage di Ustica, l'ha usato questo termine anche Pietro Orlandi per Emanuele Orlandi, muro di gomma anche per il mostro di Firenze. Posso concludere prendendo spunto dall'ultimo invito di Paolo Cochi. E infatti stavo per girarvi proprio questo. Non è che in questi tre anni Cochi e io, ma Cochi soprattutto, siamo stati fermi con vendagini difensive. Cioè partendo sempre dalla traccia potente, potente di quei rapporti della Polizia Giudiziaria Carabinieri di Borgo San Lorenzo degli anni Ottanta, posso dirle che abbiamo raccolto una serie di indizi numerosi, gravi, precisi, concordanti, che sono assonanti con quanto li seguono i Carabinieri. Queste carte però, ovviamente gli indizi non glieli dico, però queste carte sarebbero sarebbero o una conferma o una smentita. Quindi sarebbe interesse anche per chi deve ricercare la verità, al di là dei ruoli, metterle a disposizione. Anche perché appena avete mosso un po' le acque è uscito fuori quella cosa della... Sì, è uscito, guarda caso... Altre cose che lei non sta dicendo, però esistono, no? Se le dice... Esistono, esistono, stia tranquilli. Ecco, quindi non le puoi dire... Tenga presente che sulla questione strettamente giuridica, cioè la procura che dice voi non avete diritto, ma ora non lo dice neanche più, perché ci hanno autorizzato, ma per tre anni l'ha detto, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Firenze, con due ordinanze relative a due fascicoli di indagini collaterali, una sul depistaggio del proiettile e un'altra che riguardava le perisse genetiche, hanno bacchettato la procura e hanno detto voi avete il dovere di mettere le carte a disposizione, quindi all'interno dell'ufficio del Tribunale si è creata addirittura giuridicamente un conflitto. Questo è un altro aspetto che fa riflettere Paolo. Posso dire una cosa? Allora sentiamo l'Avvocato Trampo. Velocemente, io ripeto sono entrato non da tre anni, ma da un po' di mesi in questa avventura a cui mi onoro di partecipare. Io quando ho letto questo rapporto sono rimasto veramente sorpreso, a dir poco, per usare un eufemismo, del fatto che da quello che almeno so, non è mai stata imboccata questa pista. perché ci sono veramente, non diciamo ovviamente perché, come ha già detto Antonio, ma è veramente sorprendente. Sono rimasto veramente sorpreso sul fatto che non ha avuto un seguito, almeno per quello che sappiamo, giusto Antonio? Non solo non ho avuto un seguito, ma direi che ha avuto un insabbiamento. perché quando io e Paolo Pochi nel gennaio del 2021 siamo entrati per la prima volta negli uffici della Segreteria della Procura di Firenze e abbiamo chiesto di esaminare le agende della squadra antimostro che in ordine alfabetico contenevano l'elenco numerosissimo dei sospetti, questo non c'era, questo non c'era, non c'era. Non c'era. A che fa riferimento l'Avvocato Manseo? Questo intende una persona? Questo o queste persone, mettiamone un paio. Perché c'è anche un'identichizia, no? Indicate dal rapporto dei Carabinieri dell'84 e dell'85, sono due rapporti, non c'era neanche nell'elenco dei sospetti. Non era scritto. Cioè per entrare in quell'elenco bastava una lettera anonima, eh? Qui c'è un rapporto dei Carabinieri. È l'uomo del Mugello, Paolo? Sì. L'identikit famoso che abbiamo. Possiamo farlo vedere. Ci sono elementi che molto probabilmente, cioè per molto meno, persone sono state condannate all'ergastolo. Certo. Per molto meno. Certo. Ecco perché dico che è veramente sorprendente. E perché questo però, Avvocato? Chi si cela dietro tutto questo? Che succede? No, non è mio caso. Fa pensare, no? Tutto questo, è chiaro, no? Pensare male si fa peccato. Fa pensare quello che vuole. Però, le ripeto, io dal punto di vista strettamente professionale, dopo tre anni di lavoro con quel poveraccio di Paolo Cotti e adesso anche con quell'altro poveraccio di Tratta, io mi mi dovrei dichiarare soddisfatto perché all'inizio della trasmissione le ho letto due decreti che finalmente la Procura autorizza. Eh sì, appunto. Poi che succede? Quindi, non meditate? Sette mesi. Sette mesi. Sette mesi per ora. Eh vabbè, andremo dal ministro. Passa il tempo. Paolo, andiamo verso le conclusioni. Cosa aggiungere? Nulla, nulla più. Ecco, questa è un'informazione, abbiamo dato un'informazione completa che noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto anche con molta veemenza, con molta tenacia, però poi materialmente questi documenti, e aggiungo qualche reperto, perché nella lista c'era anche qualche reperto, non arrivano e quindi chi di dovere poi su segnalazione se vorrà intervenire, però per quanto ci riguarda c'era sia la motivazione per chiedere approfondimenti circa un determinato personaggio o dei determinati personaggi, ed è stato fatto, il nostro lavoro è stato svolto, con insistenza, perché se no continueremo a svolgerlo. Continueremo a svolgerlo. Perché? Perché? Perché sì, perché ci sono dei condannati e perché comunque è una storia… Perché mancano i responsabili, i tre omicili. Le famiglie di sei persone che ancora aspettano, quantomeno… Aspettano verità e giustizia, no? Quella assistita da voi, quindi… Ma ci sono anche dei reperti di DNA a disposizione? Potrebbero esserci? Ci sono due DNA. Andrebbero approfondite, andrebbero analizzate, no? Anche questi diventano… Sì, sì, il discorso è con chi confrontarli… Con chi confrontarli. Per esempio nel caso di Bossetti hanno praticamente estrapolato il DNA di uno… No, quella è qualcosa… Credo che non accada più una cosa del genere. Questo per dire, quando una procura vuole fare qualcosa… È vero che erano anche altri tempi, però… Ma si può fare ancora oggi. Però si può fare ancora, perché se ci sono dei… Sono due DNA. Siamo quasi in chiusura e vado a salutare l'Avvocato. Una sua conclusione, Avvocato. Come vogliamo salutarci? Ci rivediamo a breve, appena succede qualcosa. Allora, visto che io tiravo fuori quella disciplina della teologia che si chiama escatologia… Esatto. E che riguarda i destini finali, se no vi incontrerete con noi… Prima o poi qualcuno si incontrerà con qualcun altro, perché quelle carte prima o poi usciranno. E io, credo tutti noi, riferiamo l'oblio a un ricordo negativo. Chiaro? Quindi è un appello questo, un messaggio che sta lanciando. Sì, perché a cui protest… Ecco. Cioè, le persone passano e le carte prima o poi… Escono, hanno tirato fuori anche gli archivi del KGB, della CECA. Gli archivi vaticani escono, usciranno tra 10, tra 20, tra 30 anni. Perché lasciare un ricordo negativo? È stato chiarissimo. Grazie all'Avvocato Antonio Mazzeo. Un tanto saluto con geto l'Avvocato Antonio Mazzeo. Grazie per essere stato con noi. Ci rivediamo appena ci sono novità. Alessio Tram fa 30 secondi. L'ultima chiosa. È anche, secondo me, una cosa che andrebbe fatta nell'interesse stesso della magistratura. Perché la magistratura deve avere una credibilità. Esatto. Beh, è chiaro. Cioè, il cittadino deve sapere che se si rivolge alla magistratura, si rivolge a un potere, uno dei tre poteri dello Stato, che deve tutelare in primis l'accertamento della verità. A 360 gradi. Paolo, per chiudere? Per chiudere, ecco, mi auguro che questa nuova PM, appunto, donna, di solito le donne sono più sensibili, no? Infatti è stata lei, no? Mi sembra di ricordare qualche modo ha sbloccato. No, no, no. Si è sbloccato per un discorso di jeep. Ma jeep. Forse era una jeep. Però, ecco, mi auguro che si interessi perché ricordo sempre che ci sono, anche volendo credere a quelle sentenze assurde, sempre editorie, ci sono sei ragazzi morti, sei coppie, uccise di un caso che è uno dei più conosciuti al mondo, ne parlano all'estero. E non hanno giustizia. Non hanno avuto ancora giustizia. Grazie anche a Paolo Cochi, all'avvocato Alessio Tranfa, linea alla regia e poi torniamo per un'altra puntata, un altro appuntamento con la stagione di Crimini nei Cieli, l'epoca nera dei dirottamenti aerei. A tra poco. E ben ritrovati da Fabio Camillacci. Due capitoli di Crimini e Criminologia se ne sono andati, dedicati alla storia del mostro di Firenze. Avete sentito quelle che sono le novità. Se vi siete persi questo appuntamento col mostro di Firenze, naturalmente domani sul canale YouTube di Cusano Italia TV potrete recuperare quello che ci hanno detto il documentarista e scrittore, nonché consulente di parte Paolo Cochi, l'avvocato Alessio Tranfa, sostituto processuale dell'altro avvocato, Antonio Mazzeo, che era in collegamento, lui legale, insieme ad altri avvocati, perché è un pool di avvocati che sta lavorando per dare giustizia soprattutto ad alcune vittime del mostro di Firenze. Ci sono tre duplici omicidi che non hanno avuto sentenze rispetto a quelle riguardanti i Pacciani e i compagni di Merende. È una situazione molto confusa e questo pool di avvocati lavora proprio per alcuni parenti delle vittime del mostro di Firenze. Ora noi però voltiamo pagina e vediamo il titolo, perché è il momento di crimini nei cieli, questa nuova grande stagione, Dawson Field, il titolo di oggi. Ora lo spiegheremo bene, intanto ricordiamo, vi stiamo narrando da tempo i casi più clamorosi di hijacking, cioè i casi dove pirati dell'aria si impadroniscono di un velivole con la minaccia di provocare una strage e costringono l'equipaggio.